salve a tutti ragazzi bentornati sul canale dell'academy oggi andiamo a vedere simple token anzi penso che non l'avamo mai portato sul canale quindi può essere veramente interessante allora innanzitutto prima cosa che andiamo a notare subito è questa zona di supporto sulla quale il prezzo tra l'altro si sta trovando in questo momento e ovviamente questa immensa divergenza rialzista che ci disegna il MACD ma andiamo avanti perché ci sono un paio di cose interessanti che possono tornarci utile allora prima cosa sicuramente vediamo che al momento il prezzo sta lavorando dentro praticamente un flag dentro un canale eccoci qua quindi noi ci ritroviamo questo prezzo prezzo discendente disegna questo canale ascendente alla rottura ci aspettiamo che il prezzo scenda qual è il target del flag beh molto semplice è l'estensione del canale l'estensione del canale quindi un papabile target potrebbe appunto essere questo qua giù se noi ora andiamo a congiungere questi minimi ci accorgiamo che il target di raggiungimento del flag in sostanza non è altro che questa linea di resistenza data da questa trend line che va a congiungere i minimi quindi cosa molto interessante perché perché se noi andiamo a tracciare quest'altra trend line invece dai massimi ok troviamo questi punti qua andiamo a notare che si è creato un rising wedge quindi un cuneo rialzista quindi cosa ci stiamo aspettando praticamente che il prezzo completi la figura del flag completando il target quindi torni su questo supporto dato dalla base inferiore del cuneo facciamo prima disegnarlo quindi ci aspettiamo quindi che il prezzo scenda fino qua ovviamente non si adesso un po con l'ombra lo può perforare ma senza ecco che lo chiuda sotto lo retesti e continua a scendere ovviamente ci aspettiamo quindi che il prezzo completi questo pattern scenda raggiunga il target trovi supporto su questa zona di prezzo data dalla parte inferiore del cuneo chiamiamola così da qui trovi forza per risalire visto anche comunque la divergenza che ci disegna il MACD e il prezzo quindi salga rompa il cuneo e vada appunto al target molto interessante perché perché il target di queste figure è sostanzialmente è molto vantaggioso per noi traders perché perché il target è appunto l'estensione sarebbe questo ok che questa qui è un'estensione tra virgolette diciamo così fissa mentre lo stop loss è dinamico perché lo stop loss si muove in base al livello questo qui inferiore quindi più il prezzo si spinge si va a comprimere in questo cuneo e più lo stop loss è vicino quindi avere uno stop loss stretto avere uno stop loss molto vicino al punto d'ingresso ci permette quindi di avere un rischio rendimento molto elevato se infatti noi adesso non sappiamo dove casomai potrebbe andare a romperlo mettiamo che rompe qui noi ci troveremo quindi a questo punto un target che è qua su è uno stop loss che è leggermente qua sotto quindi un rischio rendimento di 4,66 o 1 cioè noi rischiamo un euro per guadagnarne 4 euro e 66 centesimi quindi sicuramente è molto vantaggioso dal nostro punto di vista e operare su queste figure che si comprimono e più si comprimono più si schiacciano più tempo sta a rimbalzare qui dentro e prima di tutto più tempo sta a rimbalzare qua dentro più conferme noi abbiamo più tocchi ci sono meglio è secondo più sta a rimbalzare qui dentro adesso ogni volta che passo qui questo ma lo cancelliamo più tempo appunto sta a rimbalzare qui dentro e più a noi ci si stringe lo stop loss vicino al punto d'ingresso che ogni tanto potrebbe portare al fatto che il prezzo fa un movimento contrario anche tra virgolette contenuto e ci va a prendere lo stop ci chiude la posizione ma nella maggior parte delle volte quando queste figure esplodono soprattutto se si comprimono per molto tempo con dei volumi adeguati quindi almeno sopra la media queste figure sono appunto esplosive quindi una volta che c'è il breakout il prezzo tende a scappare molto rapidamente quindi noi possiamo tranquillamente andarci a chiudere una parte di posizione al 50% del target e poi lasciare correre il resto spostando lo stop in pari per andare a prendere il restante profitto fino al 100% del target quindi molto interessante vediamo qui quindi sostanzialmente un pattern dentro il pattern quindi vediamo un rising wedge con dentro una flag la flag che potrebbe andare a completare questo cuneo rialzista l'entrata sarà alla rottura della parte superiore che anche qui più tardi rompe e tra virgolette a un prezzo più basso entriamo quindi anche questo sicuramente vantaggio dal nostro punto di vista che ci permette con una stessa percentuale del capitale di entrare cioè di acquisire un maggior numero di simple token anche per oggi quindi è tutto io vi saluto vi auguro una buona giornata ciao ragazzi